Dunque, oggi iniziamo la serie di puntate di questo webinar di negoziazione. Perché facciamo un webinar di questo tipo? Assolutamente gratuito ovviamente, perché la negoziazione è un strumento importante in qualsiasi momento della nostra vita. Ve lo spiego adesso, subito dopo la sigla. Ok, eccoci qua. Adesso siamo pronti per iniziare il nostro seminario di negoziazione avanzata e vendita. Quali sono gli obiettivi di questo seminario? Innanzitutto, darvi degli strumenti da utilizzare o non utilizzare in qualsiasi momento in cui vi troviate a dover affrontare una negoziazione. Alla fine di questo seminario avrete una cassetta degli attrezzi con 10 strumenti fondamentali che dovete conoscere. Oggi iniziamo col primo, ma prima di entrare in questo strumento, riassumo qui in questo slide il mio profilo per capire chi è questa persona che ci sta spiegando come negoziare. Mi chiamo Matteo, come sapete già da un po', ho speso gli ultimi 10-15 anni forse della mia carriera in diversi ruoli marketing e vendite nel settore high tech e telecomunicazioni. Ho fatto un MBA all'ESAD in Spagna con un exchange alla Duke negli Stati Uniti, master in marketing a Publitalia e laureato, pentito forse no, in giurisprudenza a Brescia. Parlo quattro lingue, due le parlo male o anzi direi non le parlo, quindi in totale quattro o sei dipende dai punti di vista. diversi hobby. Perché ho fatto questa introduzione di me stesso? Punto primo, perché nel caso qualcuno avesse delle domande specifiche riguardanti la mia esperienza, dove io possa condividere delle informazioni, sono molto benvenute. Punto due, io in questo momento mi sono posizionato. Nella vostra mente ho occupato piedistallo da cui voi adesso siete molto più propensi ad ascoltarmi rispetto ad ascoltare un signora nessuno. Questo è già un primo insegnamento, ma passiamo oltre a queste sorte di autocelebrazioni che sinceramente non mi interessa fare, per capire il vostro punto di vista, cioè perché mi dovrebbe interessare questo seminario. Fondamentalmente la ragione è che noi ci troviamo in una situazione di negoziazione in qualsiasi momento della nostra vita. Non è solo una questione professionale, ovviamente. Se occupate un ruolo di vendita, il vostro mestiere è negoziale. E questo è chiaro. Ma anche dal punto di vista personale, ci troviamo in situazioni dove dobbiamo negoziare, ad esempio la vendita di una casa o la vendita di un'automobile. Lì ci pone veramente in una situazione da venditore acquirente. Ma non solo, ci sono anche situazioni ibride, miste. Ad esempio, quando negoziate il vostro contratto di assunzione. Anche quella è una vera negoziazione. Ma anche in situazioni dove non si parla di soldi, possiamo trovarsi in situazioni di negoziazione. Ad esempio, decidere col proprio compagno o la propria compagna come spendere la serata. Andiamo al cinema, andiamo al ristorante, stiamo a casa a guardare la partita. Questa è un'altra vera e propria negoziazione. Un punto che mi interessa iniziare parecchio è un misunderstanding abbastanza comune dell'uso di termini negoziazione e vendita. Sono due cose assolutamente diverse. By the way, questi slide sono in inglese perché si presuppone che l'audience di Italians, ma in generale le persone che vogliono lanciare una startup o parlare di business, oggigiorno devono capire quantomeno delle slide basiche d'inglese. Avremmo potuto tradurle, abbiamo scelto di non farlo. Torno al punto di qui sopra. La negoziazione è il momento di negoziazione. Cioè, veramente, il do-do-do, la ricerca di un accordo tra due parti, mettiamola così. La vendita, invece, è il processo più ampio, di cui la negoziazione è una parte. La vendita, a me piace immaginarla come il momento in cui si generano le revenues, quindi in cui si generano i ricavi. Chiaramente inizia da una trovare il lead, quindi trovare l'opportunità, coltivarla, fare un pitch, negoziare, chiudere l'accordo, avere un contratto, per esempio, spedire e incassare il pagamento. Questo è il processo di vendita. La negoziazione è solo una parte di questo processo. Infatti, come ci conferma questa slide, abbiamo evidentemente chiaro qua i diversi momenti rappresentati in questo circolo della negoziazione, ma la cosa importante da capire è che tipo di vendita voi stiate affrontando, se parliamo di vendita. Cioè, è una vendita one-shot, come la vendita di una casa, ad esempio. una volta che io ho venduto una casa, una volta che io ho venduto un'automobile, quindi dei beni mobili, delle spese importanti, tendenzialmente tra privati, non incontro più la mia controparte, o sono in una situazione di vendita ciclica, quindi io ho un partner presso cui periodicamente mi vengo a trovare in situazione di negoziazione. I due tipi di approccio sono totalmente diversi, perché chiaramente se io faccio una vendita one-shot, posso essere più aggressivo, posso evidentemente purtroppo non comportarmi in una maniera totalmente trasparente. Tanti venditori di immobili nascondono, cercano di nascondere, non tutti ovviamente, delle caratteristiche negative degli immobili che vengono fuori col tempo, poi creando problemi illegali tra le parti, eccetera, eccetera. Però tu, dal punto di vista di vendita, non ti crei un problema, perché la persona a cui hai venduto una casa non la rivedrai mai più. Totalmente diverso è se io ho un cliente a cui faccio una fornitura costante. la fiducia diventa fondamentale. Perché? Perché la fiducia, la vendita è un circolo, come abbiamo detto, ma questo circolo poi è una spirale, quindi il processo di vendita diventa sempre più rapido quanto più vendita è continuativa. Quindi se io chiudo un atto di vendita, di fornitura, ad esempio di penne, la vendita va bene, non ci sono problemi con la consegna, il pagamento va bene e siamo tutti felici, la volta successiva l'ordine verrà rilasciato in una maniera molto più snella, molto più veloce, pagamento magari a volte anticipato, traendo vantaggi di sconto, eccetera, è sempre più rapido, sempre più rapido. Fino al momento in cui qualcosa di negativo succede e quindi si ritorna ad avere una situazione un po' più di frizione tra le due parti. Quindi approccio super importante, capire sempre che tipo di vendita stiamo facendo, one shot o continuativa. Ricordiamoci che, e questo lo diceva uno dei miei ex capi qualche anno fa, la vendita è come un bambino. Il bambino cosa fai? Se tu lasci lì un bambino, una volta parlavo con un mio amico che mi spiegava che il bambino neonato, messo in terra, non si muove ma rimane lì, cose che io ho scoperto da lui, il bambino va curato in qualsiasi cosa, va seguito sempre, anche quando dorme, va nutrito, va lavato, va fatto, va disfatto. La vendita è esattamente la stessa cosa. Da un punto di vista puramente contabile, poi magari ci sarà qualche commercialista qui collegato che mi smentisce, ma dubito, lo credo di essere nel giusto quando dico questo, la vendita si realizza nel momento di pagamento. Se io faccio un consegno dei prodotti, faccio fattura e la fattura non viene pagata, la vendita poi viene scalata dai miei risultati perché il pagamento non è arrivato e quindi la vendita non si è perfezionata, come si dice. La responsabilità di tutto questo processo è del venditore, anche se tu in persona di vendita non sei formalmente responsabile dell'emissione della fattura o del pagamento del credito o della consegna dei prodotti. Il venditore deve essere pronto a vedere qualsiasi di questi momenti e nel caso intervenire in maniera tale che non ci siano problemi con quello che è il risultato finale, quindi portare dalle revenue, portare dai ricavi alla propria azienda. Importantissimo capire nel momento della vendita e qui sto dando una serie di input qui e lì per capire dove andremo a parare durante questo webinar, chi è il mio cliente? O meglio ancora, chi è la persona con cui io sto parlando? La mia persona userà il mio prodotto? Ad esempio, se io vendo farmaci e sto parlando con il direttore acquisti di un ospedale, quello non è l'utente del farmaco. L'utente del farmaco, dipendendo dal tipo di farmaco, potrebbe essere il medico o addirittura il paziente finale. La persona con cui parlo è il decision maker, è la persona che decide di fare l'acquisto o è semplicemente una persona che influenza l'acquisto? Chi sono i vari stakeholder? Quindi chi sono le persone coinvolte nel momento dell'acquisto? Nelle grandi aziende soprattutto, ma anche nelle famiglie sinceramente, non c'è solo una persona che decide, ma c'è un gruppo di persone. Il buon venditore deve essere sicuro di coinvolgere ciascuna di queste persone nel momento, nel processo di vendita. Ma soprattutto, quali sono gli obiettivi di queste persone e del progetto per cui il mio prodotto viene acquistato? E questo è un aspetto di mentalità importante. Noi qua non stiamo parlando... Noi qua, noi qua non stiamo vendendo niente. Ma quando una persona si trova in un momento di vendita, bisogna distaccarci dal pensare io sto vendendo un oggetto. In realtà noi stiamo vendendo una soluzione a un problema. Se noi non capiamo il problema che l'acquirente ha, non saremo in grado di fare una vendita appropriata come si deve. Capendo appunto quello che stiamo dicendo, chi sono gli stakeholder, io qua propongo una tabella, tra l'altro la fonte della tabella è menzionata di sotto, per capire qual è il livello di importanza e il livello di influenza all'interno di un'azienda per quanto riguarda il momento di vendita. Perché chiaramente noi dobbiamo focalizzarci sulle persone che influenzano l'acquisto e ovviamente dobbiamo prioritizzarle, priori qualcosa del genere, comunque va a segnare delle priorità in base all'importanza. Se la persona che decide il mio acquisto casualmente happens to be the CEO, quindi casualmente è l'amministratore delegato dell'impresa, evidentemente è quella la figura dove mi devo focalizzare. In altre realtà molto più grandi, ad esempio la fo, faccio un esempio banale, la fornitura di carta delle fotocopiatrici in un'azienda come la banca intesa. Il CEO molto probabilmente non è coinvolto in questo processo di acquisto, quindi devo identificare molto bene chi sono i decision maker, quali sono le persone che influenzano, qual è la loro posizione gerarchica e lì andare a focalizzare i miei sforzi di vendita. Attenzione, lo ripeterò nel corso del seminario, il buon venditore conosce tutti, dal CEO alla segretaria, al responsabile acquisti, marketing, vendite, tutti quanti, perché più persone in un'azienda sono coinvolte nel processo di vendita o di acquisto, se lo guardiamo dall'altra prospettiva, più probabilità di successo ho io, non solo nell'atto di vendita, ma anche nell'atto di utilizzo del mio prodotto. Tutte le vendite vengono col buco, cioè può anche succedere che la mia proposta di vendita venga rifiutata e lì bisognerà capire perché no, why not? È qualcosa relativo al progetto? Cioè c'è un problema per cui il cliente ha il dubbio che il mio prodotto non trovi la soluzione al problema che il progetto sta cercando di risolvere? Oppure ci sono dei fattori personali? Il mio acquirente semplicemente al mio acquirente non piaccio io o non piace la mia impresa? Sembra banale, sembra stupido, però può essere, sono cose che possono succedere nella vita di tutti i giorni. Ci sono fattori esterni al rapporto tra me e il mio acquirente, tra me e il mio prodotto, e il mio acquirente. Ad esempio, ci sono delle frizioni tra le due aziende, ricordiamo che non ci sono aziende monoprodotto e acquirenti monoprodotto, ma può essere che ci siano diverse divisioni e i rapporti tra aziende siano più articolati, quindi ci siano prodotti che non siano personalmente in capo a me, ma in capo a dei colleghi che lavorano nella mia stessa azienda. E quindi è importante capire il perché di un eventuale rifiuto per poi trovare una soluzione e cercare di perfezionare la vendita. Quindi il primo strumento che vi voglio dare dopo questa veloce e generica infarinatura di quello che sarà il nostro webinar è il seguente. Dobbiamo capire con chi stiamo parlando e come avere questa persona on board, quindi dalla nostra parte. Più siamo capaci a conoscere il nostro cliente e avere agganci all'interno del nostro cliente, più saremo in grado di perfezionare una vendita. Ok, se vi è piaciuto questo video, settimana prossima ci sarà la seconda puntata del nostro webinar. Mi raccomando, se ci sono domande, mettetele nei commenti o punti che volete approfondire, sarà un piacere per me fare un altro video piuttosto rispondere a delle domande specifiche. Mettete like, seguiteci, spero che sia stato utile e ci vediamo la prossima su Italians. Cheers and ciao!